Dunque, a poche ore, un paio d'ore dalla partita con il Sassuolo, che cominciamo a sentire come particolarmente importante, visto i recenti fallimenti della nostra squadra, volevo fare una velocissima annotazione per quel che riguarda una gestione della palla che secondo me il Milan fa troppo poco e che potrebbe darci una mano. Guardando la partita del Bayern Monaco ieri con l'Eitra di Francoforte, ho rivisto un tipo di scelta nella gestione della palla che è abbastanza consolidata per quel che riguarda la squadra tedesca, ma lo fanno anche altre squadre, soprattutto quelle che usano il nostro sistema di gioco, cioè il 4-2-3-1, ma anche quelle con il 4-3-3. E cioè, a differenza di quanto facciamo noi, che spesso arriviamo sulla 3-4 avversaria e andiamo a incaponirci un po' nel cercare la giocata in verticale, ho una soluzione orizzontale che non ci riesce più, perché questa era una dei marchi di fabbrica dei Milan di Pioli, cioè il movimento a muoversi verso l'interno di Sale Maker, lo scambio di posizione col 3-4-ista, le ha o che taglio, va verso il fondo, insomma tutte quelle cose che sappiamo. Adesso queste cose non riusciamo più a farle, ma non facciamo nemmeno un'altra cosa. Quando il Bayern Monaco trova la consueta, mi verrebbe da dire, opposizione, il consueto muro, le consuete linee molto strette delle squadre avversarie, tende a ritornare indietro. Cioè, il suo gioco va sugli esterni, sul terzino o sull'attaccante esterno, il quale, se non trova sbocchi offensivi, se non vede un movimento adatto da parte del centravanti o di colui che gioca nel ruolo di trequartista, affermo restando che nel Bayern Monaco il ruolo di trequartista non è mai occupato da un vero trequartista, torna indietro. Cioè, consolida, come si dice, il possesso attraverso il pallone dato ai due centrali difensivi. Due centrali difensivi che giocano tipicamente molto alti, soprattutto nel primo tempo, quando il Bayern gioca in casa contro squadre che si difendono, perché poi nel secondo ha la tendenza un po' ad allungarsi e a prendere dei contropiedi. Cosa che noi invece abbiamo già dall'inizio della partita in questo periodo. Tant'è che il gol preso ieri dal grande Moni è proprio figlio anche di questa situazione tattica con ampi spazi per gli avversari. Ma questo tipo di giocata che cosa ci consentirebbe di ottenere? Non solo il possesso del pallone, e quindi un movimento rapido da destra a sinistra per cercare di, come dire, scombinare i piani difensivi della squadra avversaria, ma anche una squadra più corta, una squadra più compatta. Perché? Perché gli attaccanti tornano un po' indietro, i difensori salgono, e allora sì, in quel caso, potremmo permetterci di giocare con una difesa alta, rischiando gli uno contro uno, ma con tutta la squadra che poi è pronta a ritornare indietro e dare una mano in copertura. Naturalmente non lo potremmo fare oggi, perché non c'è Tomori e gioca Kier, e questo potrebbe essere un po' rischioso, anche se alle sue spalle comunque c'è Calulu. Però ecco, credo che a noi manchi un po' questo tipo di tranquillità, questo tipo di gestione palla. Un po' perché a Piori non piace, Piori non piace molto il consolidamento dal basso e ritornarci. Cioè, a lui piace, diciamo, lui vuole che la squadra imposti l'azione, ma che una volta il pallone ha superato la metà campo, poi non torni indietro. Però tante volte, soprattutto con squadre chiuse, soprattutto con squadre che non ti offrono una soluzione, e tu non sei capace di avere, come dire, giocate veloci, scambi veloci, una interconnessione tra i vari attaccanti di un certo livello, ecco che a quel punto la soluzione migliore potrebbe essere quella di tornare indietro. Tornare indietro e ricominciare, magari provando ad andare dall'altra parte, anche perché noi non siamo, nelle intenzioni di quest'anno di Piori, non siamo monotematici, cioè non è che andiamo solo a sinistra, attacchiamo molto anche a destra, come abbiamo visto in alcune statistiche. Per cui credo che questo spunto potrebbe essere, ripeto, utile, soprattutto in questa fase, soprattutto in una fase di difficoltà, anche per quel che riguarda il reparto offensivo, perché in fin dei conti non facciamo gol da due partite, potrebbe essere un'idea per gestire con più tranquillità la partita, il pallone, magari non sempre, ma quando gli avversari sono tutti schierati, tutti dietro la linea della palla, ecco che questa potrebbe essere un'intenzione da mettere in atto per, ripeto, per intanto limitare il numero di errori tecnici che vediamo, il numero di giocate sbagliate, soprattutto nella parte offensiva della squadra, e poi anche per, ripeto, compattare, per rendere più corta una squadra che altrimenti è davvero troppo, troppo lunga. Ci sentiamo nell'intervallo della partita.